Per noi era sul campo di Baia sabato a prendersi il freddo, era Roberto Rosiello, ciao Roberto. Buonasera a tutti, prendere molto freddo questa settimana è stata particolarmente fredda. Per non parlare del tempo, parlando della partita diciamo che oramai la Carpisa non riesce più a vincere. Le partite le inizia bene perché sia contro il Vicenza sia a Siena era andato in vantaggio, però tiene questo problema che non riesce a dare il colpo del K.O. che ne ha avute varie occasioni e poi il secondo tempo crolla e le avversari arrivano. Questo qua pecca un po' di inesperienza e per questo il direttore ha provato anche con nuovi innesti. Infatti ieri hanno esordito la difensore centrale Ugolini che proviene dalla Serie A nel Torino, una giocatrice di esperienza per dare un poco più a queste ragazze per far capire un po' come va il calcio e poi ha comprato anche la Colasonno, un buon attaccante anche nel giro della Nazionale che però ha giocato solo qualche minuto perché il giorno prima era arrivata nella Carpisa. E però il direttore ha anche promesso altri acquisti perché lui la speranza è l'ultima a morire, Mario. Quindi lo dobbiamo vedere. Va bene, ci racconti un attimo. Vediamo un po' le immagini. Viamo in cronaca? Come no. E' un bellissimo castello di Baia che in poche parole sovrasta al campo Chiovato che è quello della Sibilla che ospita anche la Carpisa. Oggi immagini diverse perché il nostro cameraman Guglielmo ha cercato di vedere da vicino oltre che le doi tecniche anche le doti fisiche delle ragazze e poi anche perché stava anche l'arbitro femmina che Guglielmo diceva che non era male e quindi ha fatto dei bei primi piani. Come dicevo la Carpisa si presenta con la classica formazione, un 4-4-2 con la Golini centrale che quindi sposta la Fontanella. Non l'ha avuta mai tanta ribalta? No, non l'ha avuta mai tanta ribalta. E' stato anche bravo, poi dirà Gargiulo se sì o no. Dicevo che la Carpisa subito inizia in avanti, brava la Kensbuck sulla destra, si guarda un po' in giro, mette in mezzo, bellissima girata della Vitale di prima intenzione ma è bravo il portiere dell'Imola. Si provano sempre sui calci piazzati, la Esposito tira ma il portiere fa buona guardia. Qua si vede il mister Peppe Marino squalificato oggi, infatti Palmieri è sulla panchina. Da un calcio d'angolo della Lecce, un bel batti e ribatti, l'Arapuano non ci pensa due volte, tira una deviazione e inganna il portiere e la Carpisa come detto va sull'1-0. Quale sultanza dell'Arapuano non è una vera e propria goleadorra. Ancora un calcio d'angolo della Lecce, svetta la Vitale ma la Buonaventura fa ancora buona guardia. Si vede alla fine del primo tempo l'Imola in avanti, con la Magrini che va sulla destra, guarda un po' al centro se c'è qualcuno, decide di scartare l'Arapuano e tira. Bravissima la Pignagnoli che devia e poi la De Martino butta la palla via. Non ci sono problemi, la Pignagnoli ha subito un colpo sul piede. Finire del primo tempo la Esposito ci prova su punizione, la palla va sulla traversa, ecco qua un altro meritato primo piano dell'arbitro Marotta di Sapri. Qua ci stanno dei striscioni e si rinizia. La Carpisa si pensa che possa dare questo colpo del KO e della Pirone che ci prova, ma il tiro è fiacco ed è centrale. Ma da questo momento in poi, in poche parole, il pallino viene un poco preso dall'Imolese. Qua è brava la Baldini che mette in mezzo per la Magrini che la palla sfiora il palo, ma purtroppo era fuorigioco. Punizione della Cimatti, bravissima la Pignagnoli che toglie la palla dall'incrocio dei pali. Sull'azione susseguente, batti e ribatti, la Fontanella salva sulla linea e l'azione si perde. Primo piano meritato per il portiere napoletano. Ancora la Pirone ci prova in contropiede sulla destra, ne fa fuori uno, ne fa fuori un altro. Si guarda intorno, gioca un po' con l'avversario, però un po' troppo egoista, stava la schioppo sola e la palla va fuori. In questo momento rilancio della Pignagnoli, un poco distratta la difesa, la sbrescia non ci pensa due volte, tira e trova l'asso nella manica. La palla va sotto l'incrocio dei pali, meritato primo piano per il numero 10 dell'Imola. Vecchi fantasmi, subito dopo il gol si invola la Baldini verso il portiere, ma la palla sfiora di poco il palo. E' ancora l'esposito che ci prova su punizione, la palla sfiora la traversa. Ultimo sussulto per la Carpisa Napoli. Qua ci sta anche l'espulsione che nessuno ha capito, neanche Palmieri, per cosa sia avvenuta. Ci sta qua sul finale di gara una situazione dubbia, il lancio per la Magrini che viene fermata in fuorigioco. Poi lascio a Gargiulo l'ardua sentenza. Come ho detto, la partita finisce 1-1. Un altro pareggio beffa? No, più che beffa, giusto direi, perché comunque oggi siamo andati in vantaggio. Nonostante il nuovo inserimento in difesa, che ha dato un po' di esperienza in più alla retroguardia, credo che soprattutto nella fase centrale del campo, quindi al centrocampo non si è giocato come magari eravamo abituati in passato. Quindi queste gare si mettono sempre difficili per noi quando non riusciamo ad andare sul 2-0 e sul 3-0, perché poi essendo una squadra giovane caliamo la distanza. Purtroppo con un bel gioio, un gol bellissimo, che è stato fatto credo al numero 10 dell'Imola, ha pareggiato e quindi poi nel finale anche buttare con la suona che è arrivata appena stamattina, che dovrebbe dare un po' di incisività in più al nostro attacco, non è servito a nulla. Il calcio femminile bisogna aspettare alla lunga quello che succede, perché poi delle squadre anche che stanno in testa alla classifica, il problema è che oggi la squadra non ha una sua identità in campo, è questo che spaventa più di tanto. Di certo abbiamo bisogno almeno di un altro paio di ragazze per poter completare l'organico qualitativamente, ma il problema non è questo, perché la squadra tecnicamente è forte, buona, però poi tutto quello che fanno durante la settimana non lo mettono in campo al meglio la domenica. Un po' di esperienza in più. Domenica scorsa abbiamo fatto una bella gara fuori casa, potevamo vincere alla grande, oggi non abbiamo ripetuto la prestazione della settimana precedente, è strano, sono ragazzi, sono giovani, una settimana va bene, una settimana non va bene, per il momento dobbiamo accontentarci di quello che passa il convento. Non uno, ma abbiamo fatto tre, quattro passi indietro alla prestazione di Siena. Squadra poco convinta, poco carattere, tutto quello che costruiamo durante la settimana, a volte entrando in quel rettangolo di gioco è come se si perdesse. Speriamo che con questi due nuovi innesti abbiamo la possibilità di lavorare su qualcosa di concreto e su qualcosa che ci possa aiutare a fare un salto di qualità, ma non tecnicamente, perché la squadra si esprime quando vuole bene, proprio a livello di esperienza e di carattere. L'Augolini ha messo a posto una difesa che a me già era piaciuta, perché i gol che avevamo subito in queste settimane, anche se sono parecchi, nel senso che abbiamo una media di un gol e mezzo a partita, però avvengono su calci da fermo, su tiri da furiari oppure su alcuni errori che non sono dovuti assolutamente a errori tattici, ma a volte anche a queste condizioni atmosferiche che penalizzano un po' la scelta del tempo e l'intervento delle ragazze.